Se faccio la tosse in pubblico mi sento un criminale per sto virus corona Ma non so quanta mangiò e che io serve la bovina per sto virus corona Metto al TG1, TG2, Mediaset pure Sky e Facebook Tutti a dir che ti devi lavar le mani, 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 mani Non serve il virus corona, serve l'educazione Sono in quarantena e mo' per tutto il giorno resto con mia moglie ma che due marrona Più è sempre mercato mo' e tutto bo' sta solo una bottiglia di birra corona Questa situazione non funziona, basta fare un pochino d'attenzione Niente panico, stiamo tranquilli Dai, 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 dai Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti